Secondo il leader della Lega la misura aveva un senso tre anni fa ma ora non più. Meno perentorio il compagno di partito e ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti secondo cui la misura va modificata ma non cancellata. In tutti i posti che ho aggirato per l'Italia mi hanno chiesto di togliere il reddito di cittadinanza. In manovra economica l'emendamento per farlo lo metto io, avrà la mia prima firma. Poteva avere un senso tre anni fa ma ora abbiamo visto che non funziona e dobbiamo assolutamente cancellare il reddito di cittadinanza. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Pinzolo. La proposta che faremo in piazza e in Parlamento è semplice. Con i soldi che si risparmiano sul reddito cittadinanza si rinviano le cartelle esattoriali e si finanzia quota 100. Conto che sul taglio delle tasse, sulle cartelle esattoriali tutto il centro-destra sia unito, ha aggiunto il leader della Lega. Già la scorsa settimana, intervenendo al mitine di Rimini davanti alla platea di Comunione Liberazione e Compagnia delle Opere, Salvini aveva affermato, tornassi indietro non rivoterei il reddito di cittadinanza. E, una legge che si è dimostrata nei fatti, in idonea. La misura è stata infatti introdotta nel 2019 con la Lega al governo e Salvini, ministro dell'Interno e vice-premier. Sempre più solido quindi l'asse tra Italia Viva e Lega, entrambi partiti a testa bassa contro l'RDC. Ieri lo ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sempre della Lega, aveva usato parole meno lapidarie, il reddito di cittadinanza deve essere considerato ma non deve essere un ostacolo alla dinamica del mercato del lavoro, non deve diventare, una barriera per la quale, molti preferiscono rinunciare al lavoro, e diventa controproducente. Questo è un meccanismo che deve essere risolto.